ciao a tutti oggi prepareremo il gelato al figo d'india il tempo di preparazione della ricetta è di circa 10 minuti gli ingredienti sono succo di figo d'india congelato latte congelato formaggio spalmabile zucchero i quantitativi degli ingredienti li troverete sul nostro blog all'indirizzo videoricettebimbi.blogspot.it diamo il via alla ricetta mettiamo lo zucchero nel boccale e lo andiamo a polverizzare per 10 secondi a velocità 10 prendiamo sul fondo lo zucchero andiamo a inserire la farfalla aggiungiamo il formaggio spalmabile lo andiamo ad amalgamare per 3 minuti a velocità 3 e mezzo adesso andiamo a rimuovere la farfalla dopo aver rimosso la farfalla andiamo ad aggiungere il succo di figo d'india a cubetti che vi consigliamo di uscire almeno 5 minuti prima di iniziare la ricetta e andiamo a frullare il tutto per 30 secondi a velocità 8 adesso andiamo ad aggiungere il latte congelato a cubetti e andiamo a frullare per altri 30 secondi e andiamo a frullare per altri 30 secondi a velocità 7 il nostro gelato è quasi pronto andiamolo a trasferire in un contenitore e posizioniamolo in freezer per almeno un'ora gelato al figo d'india grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti